E' scattata la nuova procedura online per le dimissioni che in Lombardia interessa a oltre 300.000 lavoratori ogni anno. Il nuovo sistema, oltre ad essere più agevole perché supera la storica pratica delle dimissioni cartacee, è nato con l'obiettivo di contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco. Il cambiamento che permette appunto di contrastare questo abuso, questa anomalia tutta italiana, circa il fatto che dei lavoratori, a volte spesso, ci sono obbligati a firmare delle dimissioni in bianco e a dover lasciare il posto di lavoro in maniera assolutamente sbagliata e ledendo i loro diritti. Il governo ha avviato una nuova procedura che è tutta telematica, non ci sarà più, è un grandissimo cambiamento, le classiche dimissioni date per raccomandata su un foglio di carta. Il lavoratore oggi per dimettersi in maniera corretta e trasparente deve poter accedere a un portale, a un portale nazionale, quello di Clic Lavoro, in cui può confermare la propria volontà delle dimissioni. Il lavoratore lo può fare sia direttamente utilizzando il codice personale dell'Inps oppure lo può fare rivolgendosi alle DTL, agli enti bilaterali, ma anche ai patronati e ai sindacati. La CISA ha subito messo in campo una propria iniziativa, aprendo le proprie sedi e i propri sportelli per questa esigenza dei lavoratori che è molto forte. Sono giorni in cui stiamo prendendo le misure, lo stesso governo doveva fare una campagna pubblicitaria molto più adeguata, i lavoratori sono poco informati, ma la CIS dà delle risposte e quindi siamo pronti ed attrezzati per sostenere i lavoratori in questo passaggio in cui è importante che sia certificato il loro diritto e non ci siano più degli abusi. Gli operatori della CIS sono in campo su tutti i territori per dare assistenza ai lavoratori che intendono dimettersi attraverso il portale del governo Click Lavoro. Noi risultiamo a norma dell'articolo 26 del decreto 151 un soggetto autorizzato, quindi abilitato a svolgere queste funzioni, quindi di assistere il lavoratore per quanto riguarda la procedura delle dimissioni online. Si entra nel portale Click Lavoro, che è il portale di riferimento, dopo essersi accreditati, dopo aver fatto una procedura nel quale il Ministero del Lavoro ti manda la tua nome utente e la tua password, che poi chiaramente si potrà cambiare di primo accesso. Si entra sul portale Click Lavoro, quindi www.clicklavoro.gov.it, si accede attraverso il login che si trova in alto a destra, inserendo nome utente e password, ha proprio un'altra pagina dove sulla sinistra troviamo la scritta dimissioni online. Quindi cliccando lì si entra a sua volta nell'aspetto e nel pezzo dedicato a questo tipo di procedura. La prima schermata che uscirà sarà di indicare se il rapporto di lavoro con quell'azienda è iniziato prima o dopo il 2008, si clicca, esempio, dopo il 2008, esce sostanzialmente un'altra schermata dove ci sono tre pulsanti, cerca, revoca e avanti, quindi si va avanti con un'altra schermata che sarà precompilata perché bisogna inserire nella prima fase il codice fiscale del lavoratore, il codice fiscale dell'azienda che permetterà appunto la precompilazione di questa scheda. Il lavoratore che intende farsi assistere da un operatore sindacale nella procedura delle dimissioni online deve provvedere a fornire alcuni documenti. Si deve presentare con una busta paga, il codice fiscale dell'azienda, il comune della sede legale dell'azienda, questi sono chiaramente i tre requisiti, e l'email, meglio se è una posta PEC, però oggi si può fare questa procedura anche con una posta elettronica normale, quindi che non sia PEC. Si compilano questi quattro campi, fino ad arrivare sostanzialmente al quinto, che è quello proprio del recesso, bisogna valutare bene chiaramente il periodo di preavviso, perché il giorno che si indica è quello già comprensivo del periodo di preavviso svolto, qualora il lavoratore lo voglia svolgere, chiaramente se il lavoratore rinuncia, si indica il giorno che il lavoratore ci appunto dichiarerà. Quindi bisogna stare attenti al preavviso, perché sono preavvisi che partono dal giorno successivo, quando sono preavvisi che partono dal primo al 16 del mese, secondo la tipologia contrattuale dei livelli, bisogna chiaramente fare questo tipo di azione. L'assistenza è garantita sia agli iscritti CISL che ai non iscritti. In entrambi i casi i lavoratori dovranno dare delega scritta a chi li prende in carico. È importante che come soggetto abilitato e accreditato si faccia firmare un mandato di assistenza, chiaramente perché il lavoratore viene lì, è giusto che si assuma le responsabilità di quello che dichiara, consigliato, assistito dall'organizzazione sindacale, però se dichiara un giorno e poi dopo ti viene a dire no, non è quello, quindi è giusto che si faccia un mandato di assistenza, questo termine. e poi alla fine si fa clic su invia e esce proprio un messaggio che l'invio sta in dato buon fine, le dimissioni sono state inviate alle mail del datore di lavoro da lei indicata e alla DTL competenza territoriale. La stessa dimissione si può aprire in pdf, la si stampa e ne si dà una copia.